da come vi ho detto anche prima bucaresti una città piena di parchi di verde infatti per quello che viene nominata nel 2016 una delle città più verdi dell'europa voglio che ora dici a tutti perché romania perché bucarest perché proprio ora è qui allora bucarest mi faranno il volo diretto per la sardegna per cagliari e siamo famosi romania smile dente il brand che con cui ci conoscono in romania è fortissimo perché bucarest poi la città connessa con tutte le altre città della romania e soprattutto forse questa è la cosa più importante la città più connessa con gli aerei di tutto l'est d'europa tutto lo staff sono stati proprio una squadra formano una squadra che aiutano tutti con loro che che vengono a fare le cure la pubblicità del dottor palmas è tutto vero di quello che lui parla e di quello che lui fa io consiglio a tutti chi ha problema di denti il dottor palmas di tutta la loro ecchipa ragazzi giovani disponibili che ti seguono che ti spiegano tutte le problematiche che tu puoi avere in bocca e consiglio a tutti di fare questo passo perché la vita cambia radicalmente il modo di vivere cambia radicalmente bene bene bene